Ciao, mi chiamo Angelo Diario, ho 34 anni, tutti vissuti a Roma tranne uno, durante il quale sono stato a Torino per frequentare un master in politica economica. Sono laureato in economia, laurea quadriennale, conseguita in 4 anni con Massimo dei Voti. Lavoro al Ministero dell'Economia come funzionario esperto in finanza pubblica e mi occupo di strategie di gestione del debito pubblico. Sono appassionato di musica, ho cantato in diversi cori polifonici facendo concerti ad esempio all'Auditorium di Tor Vergata o all'Auditorium Parco della Musica. Sono un produttore di birra artigianale e anche in questo caso ho partecipato a dei concorsi, vincendo una medaglia d'argento al primo Italia Beer Festival di Roma. Sono un appassionato di corsa e in particolare mi piacciono le sfide impossibili, quest'anno ho partecipato alla 100 km del Sahara. Sono attivo nel movimento dal 2011, a livello locale mi sono occupato principalmente di tematiche ambientali, in particolare ho promosso due giornate di pulizia nel Parco del Pineto e ho organizzato la festa Sogno di una notte d'inizio estate nel Pineto. Sono stato coordinatore semestrale nel corso del 2012. A livello cittadino invece ho partecipato all'attività dell'autofinanziamento e della logistica e del gruppo comunicazione. Ho scritto articoli per la campagna informativa, si può e si deve ora. Come portavoce non ho degli obiettivi prefissati già adesso, ma preferisco indicare un metodo a seguire, ovvero cercherò di sfruttare le potenzialità della rete e in particolare di attuare la trasparenza amministrativa e la partecipazione tramite i canali istituzionali e quelli non ufficiali più propriamente da movimento come blog, sondaggi e articoli. In due parole cercherò di fare rete.